Ci è voluto un po' di tempo ma finalmente sono riuscito a mettere le mani su una Max Mod Ciao a tutti ragazzi sono sempre Luke e bentornati sul mio canale Raw Therapy Questa volta ci ho messo veramente tanto Io non riuscivo mai ad acquistare una di queste lenti che veramente sparivano in un nanosecondo dallo shop ufficiale GoPro Che al momento rimane l'unica risorsa per acquistare una di queste lenti Questo perché è stato l'accessorio sicuramente più discusso e più blasonato della nuova GoPro 9 E oggi quindi andiamo a capire effettivamente quanto questo accessorio sia utile per la nostra GoPro Sulla carta quello che vuole fare è quello di sostituire la GoPro Max La videocamera cioè di GoPro a 360 gradi che è in grado di ottenere dei grandangoli ultra spinti Utilizzando le proprie capacità di reframe e utilizzando anche una modalità interna automatica Che si chiama Hero Mode che ci fa utilizzare la Max esattamente come se fosse una GoPro normale L'obiettivo in questo senso di questa lente qui è quello di aprire ancora di più il campo visivo della nostra GoPro 9 E partiamo proprio quindi da lei la GoPro 9 Che così com'è riesce a raggiungere un grandangolo fino a 133 gradi dovrebbe essere Per dare proprio dei numeri La Max Lens Mod invece come ci viene indicato sulla scatola raggiunge 155 gradi Quindi già questa differenza di gradi vi fa capire che stiamo parlando di un 20 gradi di differenza Non poco, la GoPro si apre molto di più Ma in assoluto certamente sarà meno rispetto a quella che è la capacità grandangolare della Max Mod E su questo c'è poco da fare La Max puramente per il grandangolo Visto che potenzialmente riprende a 360 gradi E comunque una sola lente arriva più o meno ai 180 gradi Riesce a catturare più cose rispetto alla nostra Max Mod Quello che hanno cercato in GoPro di fare è stato quello di copiare e raggiungere gli stessi gradi Del Superview all'interno di Max in Hero Mod Per chi di voi fosse un po' confuso da queste cose qui Essenzialmente in Max ci sono due modalità in cui potete utilizzare la GoPro Da una parte l'acquisizione a 360 gradi con entrambe le lenti che creano un file sticciato Cioè cucito tutto quanto insieme unico E poi abbiamo una modalità che si chiama Hero Mod Che in realtà è anche un po' limitata Perché ci fa acquisire soltanto in 1080p Con diversi gradi di grandangolo Fino a quello appunto del Superview Max Eccola qui la Max La fotocamera a 330 gradi di GoPro Che è appunto uscita un anno fa E sembra quest'anno messo un po' da parte da GoPro Vorranno forse andare oltre questo modello e lasciare perdere con le fotocamera a 360 gradi Lo vedremo anche perché la concorrenza ormai è sempre più agguerrita Ma francamente questa piccola camera a 360 gradi Estremamente resistente e ben costruita A me era poi piaciuta Ha poi ancora due difetti Che sono un po' le mancanze di risoluzioni da un lato E dall'altro la mancanza secondo me è veramente allucinante Allucinante perché nella loro precedente Fusion GoPro Aveva inserito la modalità di foto a lunghe esposizioni E invece nella Max dopo un anno Non sono ancora riusciti a rilasciare un firmware in grado di farlo Tuttavia con Max Mode proprio queste limitazioni vengono a perdersi Vengono a perdersi perché Max Mode è una lente che semplicemente applichiamo sulla GoPro 9 Andiamo quindi ad aprirla perché mi sono già dilungato troppo in mille parole Confezione GoPro abbastanza larga Per celare all'interno quello che non doveva succedere Che mi cadesse la Max per terra Poi GoPro mi deve spiegare perché mette tutta questa carta per un oggettino così piccolo Per fortuna era protetto da questo bellissimo case in gomma Guardate qua, GoPro, fantastico Che era insieme a questo altrettanto carino panno marchiato GoPro E all'interno di tutta questa magnifica scatola c'è l'accessorio Eccolo qui, fantastica È costituita dall'attacco, tutto quanto in alluminio E devo dire anche da una bella gommatura Ovviamente la superficie della lente rimane un qualcosa di abbastanza esposto a righe e quant'altro Quindi bisogna cercare di andarlo a proteggere quanto più possibile L'inserimento sulla GoPro 9 è molto semplice Abbiamo visto che su questa GoPro finalmente è ritornato il meccanismo della lente rimovibile Quindi andiamo a rimuoverla con una semplice rotazione in senso anti-orario Viene messa in esposizione l'attacco metallico della GoPro 9 Andiamo quindi a questo punto ad appoggiarci la nostra Max Mod Appoggiamo così, vedete che ci sono le due alette che devono combaciare con queste alette Appoggiamo e la giriamo per bloccarla Perfetto, eccola qui, fantastica, fantastica Ovviamente la GoPro diventa qualcosa di abbastanza più grosso e sporgente Ed eccole qui a confronto le due rivali Max e GoPro 9 con Max Mod Andiamo ad accenderle Una volta accesa ecco subito che viene fuori una cosa particolare E cioè, guardate che effetto che la Max dà sulla nostra GoPro Vedete che è come se fosse contornata da un fisheye Sostanzialmente, così è un fisheye molto spinto Questo per dirvi che in realtà per utilizzare normalmente la GoPro Dovete andare ad attivare l'opzione dedicata a schermo Che è questa qui Perfetto, l'abbiamo attivata E a questo punto abbiamo l'effettivo grandangolo che stavamo andando a cercare Foto Max con Superview Max Mentre se ci spostiamo in modalità video Andiamo sempre sul Superview di Max Per fortuna ci hanno pensato Ci hanno pensato al trasporto della GoPro 9 con la Max Mod sopra Quindi non dovete sempre smontarla Perché il carrying case con cui viene appunto venduta la GoPro Max In realtà si trasforma anche in un tappo per la stessa Mentre purtroppo l'altra estremità rimane inutilizzata Perché non serve per trasportare la lente di GoPro normale Perché vedete che non si incastra purtroppo Altra cosa carina che grazie a Dio sforzandola un pochettino La Max Mod entra anche all'interno dello sleeve Ed eccola qui la GoPro 9 con la Max Lens La Max Mod sopra Andiamola a vedere un attimo più da vicino Una delle prime cose che mi viene da commentare È quanto la GoPro stessa diventi più ingombrante E fatemi dire anche molto più pesante Per verificare ciò abbiamo qui subito un pesino da cucina Andiamo a pesare la GoPro con Max Lens Che arriva quindi a un peso di 181 grammi Se tolgo la Max Lens e gli metto la sua lente originale Invece siamo su un peso di 160 grammi Una differenza di peso che in effetti sulla carta non sembra far troppo paura Ma considerate che già la GoPro 9 è molto più pesante Rispetto alle precedenti GoPro 8, GoPro 7 eccetera Mettendo anche la Max Lens Sinceramente se la utilizzate in contesti action Diventa veramente un po' troppo Almeno per quello che ho testato io Sinceramente la trovavo piuttosto sbilanciata Tra l'altro torniamo al fatto della sporgenza di questa cosa qui Che dovete di continuo andare a proteggere con il tappino Se appunto non la state usando e la volete riporre in tasca E secondo me diventa veramente molto più complesso da gestire In quelle situazioni dove appunto Max Mode andrebbe utilizzata Mi viene per esempio un'uscita con gli sci, in bici eccetera eccetera Quindi un po' scomoda da utilizzare Assolutamente è molto più pesante Considerate poi che la superficie di questa lente qui È veramente delicata Perché vedete che sporge anche all'infuori Quindi è un altro punto a sfavore Nel senso che questa qui una volta rigata Appunto è totalmente rovinata Altra cosa che ho trovato un po' scomoda è questo tappo Che di fatto se non fate molta molta attenzione Lo andate a perdere Perché nelle situazioni in cui magari ve la ficcate in giacca La tirate fuori e dentro velocemente Questo tappo qui tende veramente con facilità a sfilarsi E se lo perdete penso che non ne trovate un altro tanto facilmente Quindi tutto ciò vale la pena Vale la pena per il costo che ha Che non è affatto poco Appunto stiamo parlando di circa 70-100 euro Secondo che la comprate con il GoPro Plus o meno È un accessorio abbastanza expensive Che a dirla tutta Il vantaggio sostanziale che vi dà È un 15% di campo visivo in più Io personalmente visto che possiedo anche la Max Non lo trovo un accessorio così utile È sicuramente utile perché ci consente di registrare Ha delle risoluzioni che diversamente Non possiamo raggiungere soltanto con la nostra Max L'unica risoluzione disponibile è 2,7k a 60 fps Non posso salire ulteriormente Posso usare il 4 terzi Ma quello appunto è un altro discorso L'opzione più interessante che la Max Mod riesce ad attivare È sicuramente l'allineamento dell'orizzonte In automatico che come potete vedere Blocca completamente l'orizzonte Io giro la GoPro su se stessa E non succede assolutamente nulla Questo qui è veramente una figata Utile, molto utile In certe situazioni di action sport Molto molto movimentate Ma nella pratica di tutti i giorni Per quello che appunto la gente normale fa Forse è abbastanza limitato Quest'opzione peraltro Non è che è stata introdotta unicamente con la Max Mod Ma era già presente sulla fotocamera 360 di GoPro E cioè appunto sulla Max E diciamo che non è stato quindi introdotto Una novità pazzesca Anche se sicuramente in effetti possiamo sempre sfruttare La risoluzione maggiore che invece su Max Mod È limitata ai 1080p In definitiva che cosa ne penso di questa Max Mod È un accessorio che ha fatto veramente tanto rumore Un accessorio da avere in un certo qual modo Soprattutto se fate action sport Quindi tutte quelle situazioni in cui vi prendete la GoPro E ve la montate addosso Per una visione dell'avventura in prima persona Ma per i possessori già di un modello GoPro Max O GoPro Fusion eccetera Rimane un pochettino limitato come uso È chiaro che con questa lente qui Raggiungiamo delle risoluzioni maggiori Ma è anche vero che purtroppo non sono quelle massime possibili su GoPro 9 Perché abbiamo disponibili soltanto il 2,7k su GoPro 9 Anziché il massimo che sarebbe appunto il 5k Dovete capire se effettivamente il salto da Hero Mode In 1080 della Max Al 2,7k del GoPro 9 Valga la spesa E soprattutto devo dire che se vi servono degli effettivi grandangoli spinti Ma spinti spinti La Max rimane un qualcosa di diverso In generale le 360 Cioè le fotocamere a 360 gradi Permettono di fare cose diverse rispetto alla Max Mode Ottimo! Se vi fosse piaciuto questo video lasciate pure un like Commentate se aveste qualche tipo di domanda Io sono sempre Luca Siete sempre su Raw Therapy Ci vediamo nel prossimo video Ciao! Ciao!